C'è un dolore fisico che l'animale può provare, questo è reale, può essere reale, nel senso che in certi casi esiste e per questo esistono, anche nel libro sono indicate molto bene le cure palliative. Le cure palliative hanno una funzione proprio specifica, antidolorifica e quindi per togliere realmente il disagio fisico che l'animale vive. Nella complessità però dell'evento c'è anche il dolore emozionale dell'animale, c'è un legame fortissimo, dentro il legame è compreso anche un dolore emozionale dell'animale, entriamo più nel piano emozionale animico e quindi i fiore di Bach funzionano benissimo su questo piano qua.